Siamo presso lo stand P11 dei Merangoli Editrice al Mezzanino. Siamo insieme al professor Franco Dintino e a Diego Martina. Il professor Franco Dintino è il prefattore di un volume che tra poco andremo a conoscere. Professore ci vuole dire, ci fa una sua breve presentazione e ci racconta perché ha concesso di fare da prefattore a questo volume che la prego di prendere e di mostrare in camera. Grazie. Sì, l'occasione, ho insegnato per tanti anni nella facoltà di studio orientale, alla sapienza, letteratura italiana, però sono venuto in contatto con la cultura giapponese, con la letteratura giapponese che mi ha subito affascinato, mi ha sempre affascinato. Però poi un viaggio in Giappone mi ha permesso di leggerne di più, di comprenderla forse un pochettino di più, grazie anche a Diego che è grande esperto di lingua e letteratura giapponese. E quindi poi mi ha fatto entrare in questo mondo in un modo più approfondito. Poi mi ha fatto leggere questa raccolta che mi è sembrata molto bella, molto affascinante e così ho pensato di scrivere le mie impressioni di lettore, di critico occidentale, di fronte ad un fenomeno così diverso ma così affascinante come questa poesia breve, apparentemente molto semplice ma anche molto profonda. Diego, intanto, lei ha tradotto dal giapponese, quindi lei conosce il giapponese. Perché Diego lei conosce il giapponese? Io ho studiato giapponese alla Facoltà di Studi Orientali dell'Università di Roma Sapienza e mi sono laureato sia alla triennale che alla specialistica. Ho studiato con due diverse borse di studio per due anni in due università giapponesi e mi sono appunto laureato nel corso di lingua e letteratura. Quindi conosco sia la lingua giapponese che la letteratura giapponese e quindi naturalmente con il mio percorso e con la passione che avevo fin da piccolo per la letteratura non solo giapponese ma anzi in maniera più ampia, letteratura americana, europea, italiana ovviamente, ho deciso di intraprendere questo percorso di traduttore, quindi come autore ma anche come traduttore. In realtà questo è già il mio quarto volume di traduzioni di poesia giapponese e ho pubblicato, tradotto e pubblicato ormai diversi anni fa il volume di Tanikawa Shuntaro che è il più famoso poeta giapponese vivente ed è un poeta non di haiku, di poesia breve giapponese, ma di poesia moderna in versi sciolti, poesia lunga potremmo dire. Dopodiché ho tradotto un altro volume di haiku, questo è praticamente il terzo e il quarto volume ed è un autore moderno. Diciamo che lo haiku moderno è abbastanza raro come traduzione in Italia perché solitamente al di là del problema appunto dei diritti d'autore l'altro problema è quello a cui si va incontro, è quello appunto che è difficile trovare questo tipo di poesia e c'è ancora da parte dei lettori italiani una certa, potremmo forse dire quasi diffidenza nei confronti di ciò che è moderno in quanto dicendo giappone chiaramente uno è portato a pensare, a credere nella tradizione giapponese e quindi finora è molto facile trovare anche sul mercato giapponese volumi di haiku più o meno, non dico anche antichi, ma anche vecchiotti quindi parlando di autori come Basho, parlando di autori come Kobayashi Issa invece questo appunto Maruyama Daizen è un autore moderno, vivente, ha 30 anni, ha scritto già tre raccolte di poesie in poesia haiku e devo dire che è un autore molto fresco, tant'è che ho cercato nella traduzione poi di rendere la freschezza dei propri versi, sperando appunto di esserci riuscito. Diego, lei lavora e vive a Tokyo, quindi accanto alla sua attività lavorativa vera e propria si associa anche un'attività di tipo letterario quindi per il prossimo futuro dobbiamo aspettarci altre traduzioni di poesie, rimarrà sul settore delle poesie o pensa anche di rivolgersi verso racconti o romanzi? Sì, io traduco in italiano e pubblico in Italia, ma sono anche attivo sul piano letterario giapponese, in Giappone scrivendo anche poesie in lingua giapponese, non scrivo poesie haiku, non scrivo poesie breve, scrivo poesia moderna quindi versi liberi, sciolti e ho pubblicato quest'anno la mia prima raccolta di versi dal titolo Motokau no Kishu no Bakemono è un titolo giapponese perché la raccolta è stata scritta direttamente in giapponese e sta riscuotendo un buon riscontro in Giappone tant'è che anche quotidiani importanti giapponesi come Loasai Shinbu mi hanno invitato a scrivere sulle proprie pagine e quindi sono stato pubblicato anche da queste collane, da questi quotidiani chiaramente il mio interesse nei confronti della letteratura giapponese è ampio, varia dalla poesia ai romanzi anche ai racconti, però principalmente per ora sono focalizzato soprattutto sulla poesia questo perché parlando come traduttore posso ben dire che per esperienza tradurre poesia non è affatto facile in un certo senso bisogna essere poeti, si dice, per tradurre poesia per me è sempre una sfida riuscire a rendere in italiano ciò che la lingua giapponese rende in maniera molto spontanea in italiano c'è sempre una perdita in traduzione, una perdita non tanto di significato quanto di atmosfera invece nel mio caso riuscire proprio a rendere non solo chiaramente il significato del testo giapponese ma anche l'atmosfera del testo è sempre una sfida che mi spinge a tradurre e a fare meglio quindi diciamo che per il momento credo di restare soprattutto fermo sulla traduzione di poesia ho altri due volumi pronti, uno di Tanikawa Shuntaro, l'altro di un autore enorme della letteratura giapponese di cui però per questioni diciamo non di segretezza ma al momento non mi va ancora di rendere noto il nome comunque spero nel prossimo anno di riuscire a tradurre anche questi, a pubblicare questi due volumi in Italia, in italiano speriamo grazie a tutti